Alvia il Festival della Ruralità, 5 giorni per avvicinare e riavvicinare i cittadini al Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Questa mattina la conferenza stampa. Aperitivi culturali, workshop, visite guidate e molto altro. Alvia dalle 17 di domani la seconda edizione del Festival della Ruralità, nato con l'obiettivo di avvicinare e riavvicinare i cittadini alla bellezza del Parco Nazionale dell'Alta Murgia. In coincidenza con il compimento dei 10 anni di età del Parco, la rassegna di appuntamenti verrà suddivisa in 5 giornate ricchissime di novità. Seminari, laboratori didattici ed escursioni anche serali, accompagnate da buona musica. Solo per fare qualche esempio, l'escursione mountain bike lungo la ciclovia Iazzo Rosso-San Magno-Castel del Monte o il percorso guidato in autobus e tracce nella roccia. Alvia il Festival della Ruralità, articolato questa volta in 5 giornate, che cosa comprendono? Questo Festival è soprattutto dedicato a chi ha tanto desiderio di Murgia. C'è una rinnovata attenzione per l'Alta Murgia e soprattutto per l'area del Parco. Nei 5 giorni ci sarà di tutto, dai laboratori, alle escursioni, agli aperitivi letterari, alle degustazioni, agli eventi, insomma, nelle aziende agricole del Parco, perché sono quelle che privilegiamo. Quindi sono 5 giorni importanti in un luogo che noi abbiamo fatto diventare un luogo politico sul piano nazionale, perché il Festival della Ruralità è unico nel suo genere nel nostro paese. è in una fase in cui, per esempio, l'unica facoltà che incrementa gli iscritti sono quelli di Agraria, insomma, da copertina dell'Espresso recentissime. Quindi c'è un'attenzione particolare anche alle nuove direzioni.